sono cernarino abbastanza eh stai mi scherzo e sono come piace molto la famiglia abbastanza figurati si poneva più piccolino non lo pareva proprio allora per caso ma sembra sorda cosa? ma sembra sorda cosa? ma sembra sorda i sordi? ah chi ho detto questo peggio è te? ma vero chi? chi sta proprio guaiato ma guarda che buona bambina e il tuo figliato ah chi? bambina che è tu il suo cernarino abbastanza mi ha fatto 20 anni a seconda e 10 anni non durato e ora mi ha fatto una settimana a casa questa bella zona vip vieni qua solo un po' di tempo che mi hai fatto perdere io ti avessero una macchina si va beh ma se mi alzo non ce la fai e poi non ho capito ma scelgo anche il tuo furgone andiamo al furgone e prendiamo la scaletta la porto a casa e gli ho capito tutto e poi? e poi mi fermo e scelgo un po' di minuto ma che c'è un po' spratta? no 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 no